Quarto turno di andata nel girone chietino di terza categoria con una delle gare più interessanti che si gioca al Rocchi Marciano di Ripa Teatina. I rosso verde neri di mister Di Meo partiti con propositi bellicosi non stanno deludendo le aspettative anche se la concorrenza è particolarmente agguerrita. D'altra parte la classifica attuale con i ripesi affiancati al comando da altre due squadre è la più plastica rappresentazione del grande equilibrio complessivo e dell'estrema incertezza per i discorsi d'alta quota e quindi indispensabile proseguire il cammino in maniera abbastanza spedita e la sfida odierna con il Treglio può essere una ghiotta occasione per agguantare il bottino pieno. I sei punti di differenza in classifica fanno pendere l'ago della bilancia in favore della squadra di casa che arriva alla sfida odierna col morale alle stelle in seguito alla netta affermazione esterna col Villa San Vincenzo. Non c'è neanche il tempo per le canoniche fasi di studio e la squadra di casa passa subito a condurre. E' trascorso appena un minuto dal fischio d'avvio del signor Ciofani di Chieti quando sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina la sfera arriva dalle parti di Fiaschi che di prima intenzione lascia partire un destro dalla media distanza che lascia di stucco il malcapitato De Sanctis. I padroni di casa rimangono sul pezzo e vanno ad insistere ancora sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina. In questo caso la sfera arriva sulla testa di Marcello pronta ad indirizzare verso Rulli ma De Sanctis risponde providenzialmente e limita i danni. La trasferta ripese del treglio comincia a prendere una brutta piega poco oltre il quarto d'ora di gioco. E' il sedicesimo per la precisione quando il direttore di gara ravvisa l'intervento falloso in area di Fedele ai danni di Derelitto e senza indugiare oltre indica il dischetto. Alla battuta dagli undici metri si reca Di Michele che fa il suo dovere e permette a Ripa di incrementare il vantaggio. Il treglio prova a scuotersi con la zampata ravvicinata di Andreoli che costringe Farinaccia ad un difficile intervento in tuffo per ridurre la sfera più miti pretese. Sugli sviluppi del nuovo tiro dalla bandierina l'estremo di casa si salva sulla stoccata dell'avanzato Giordano e anche sulla successiva ribattuta dell'appostato Gian Cristofaro. Scampato il pericolo il Ripa allontana la sfera dalla propria metà campo e si propone dalle parti di De Sanctis con lo spiovente dal limite di Rulli che termina la sua corsa a fil di palo. Due minuti dopo si torna sull'altro versante con l'invito dalla destra di Di Camillo che arriva dalle parti di Carmine Di Battista conclusione di quest'ultimo che manca lo specchio della porta. Va decisamente meglio al compagno di squadra Gian Cristofaro che al quarantunesimo rimette il risultato in discussione con un perfido piatto destro dal limite d'area che manda la sfera all'altezza dell'incrocio dei pali e per farinaccia non c'è scampo. Prima dell'intervallo i padroni di casa cercano di ripristinare il doppio vantaggio ma De Sanctis che ha qualche problema a bloccare la sfera sul perfido destro dal limite di Renzetti viene graziato da Rulli che sulla ribattuta non riesce a calciare verso la porta avversaria. I ripesi ripartono subito all'offensiva e dopo una manciata di secondi dal riavvio delle ostilità il neo entrato Roccalba salva la porta sulla temibile incursione di Renzetti in una gara in cui si creano molti pericoli su palla inattiva anche il tiro dalla bandierina conseguente a queste caratteristiche. Nel caso specifico l'incursione di Marcello spedisce la sfera a sorvolare la trasversale di Roccalba nuova occasione per la squadra di casa ma Rulli non riesce ad addomesticare la sfera in piena area e vanifica una buona occasione per chiudere la pratica. Il festival dei gol mangiati si arricchisce di un nuovo capitolo e a scriverlo è stavolta Marcello ma il meritato Tris ripese arriva comunque e si materializza all'ottavo grazie a Rulli che fulmina Roccalba con un tocco da distanza ravvicinata finalizzando al meglio l'ottimo lavoro di preparazione di fiaschi che si sviluppa sul corridoio di sinistra. Il dieci ripese ci prende gusto e un minuto dopo prova a regalarsi la doppietta personale ma stavolta chiede troppo e si dimostra poco altruista potendo appoggiare al meglio piazzato Renzetti o in subordine alla corrente Luciani. Ripa ancora rembante all'undicesimo con Luciani che pennella al centro per Renzetti quest'ultimo manca di poco la stoccata ideale per indirizzare la sfera verso la porta avversaria. Il trelio prova a scuotersi e tre minuti dopo torna a riaprire parzialmente i discorsi anche se in maniera leggermente fortunosa. I ragazzi di mister russo tornano infatti a ridurre il divario ma in virtù di una sfortunata autorete di Derelitto che scaraventa alle spalle di Farinaccia nel tentativo di spazzare la sfera intercettando il diagonale di Giallonardo. La rete riaccende la fiammella della speranza della truppa tregliese che ha una buona possibilità con Gian Giordano ma quest'ultimo non approfitta del momento opportuno e non riesce a calciare da buona posizione. L'ultimo assalto ospite arriva poco oltre la mezz'ora su pallina attiva. La conclusione dal limite dello stesso Gian Giordano scavalca la barriera ripese ma anche la traversa di Farinaccia. Il ripa non correrà più altri rischi e anzi si rivede in avanti nelle fasi di recupero con il tentativo di Luciani che viene bloccato da Roccalba. Alla fine la truppa del presidente Basile può festeggiare davanti al pubblico amico per la conferma della prima piazza insieme ai coinquilini del Villamagna. Mariano Basile è il presidente del ripa di Atina. Una buona prestazione subito in vantaggio però come succede nel calcio c'è sempre qualche brivido. Sì hai detto benissimo siamo partiti alla grande già dopo 4-5 minuti eravamo sul risultato di 2-0 dopo purtroppo nel calcio c'è stato c'è un calo che è normale quando si va subito in vantaggio in questa maniera e c'è stato il ritorno degli avversari però è stata una partita a larghi tratti dominata che ha visto solo qualche momento di difficoltà però anche oggi abbiamo dimostrato che siamo una reale candidata al salto di categoria sicuramente ci sono dei dettagli da animare con allenamenti in settimana siamo anche una formazione che è nata da pochissimo quindi ci sono dei momenti dove bisogna conoscersi e questo momento è uno di quelli bisogna conoscersi in campo per migliorare il tutto. Volevo proprio domandarti se questo era l'obiettivo di quest'anno fare il salto delle categorie. Allora vincere campionati è sempre difficile ogni anno l'obiettivo è sempre quello di dare il massimo e di provare a raggiungere risultati importanti questa piazza ripatatina come dicevo anche nelle precedenti interviste ha calcato palcoscenici importanti quindi l'obiettivo è quello di tornare e riportare il paese dove merita ci vorranno degli anni ci vorranno tanti sacrifici ma abbiamo tanta determinazione abbiamo un team che comunque già collaudato perché come ben sai questa è una società che già al suo interno ha sia il settore giovanile scola calcio ma anche il calcio a 5 che si esprime ad ottimi livelli e disputa il campionato regionale quindi l'obiettivo è quello di avere una una società a 360 gradi tra calcio a 11 calcio a 5 e scuola calcio che sia un fiore all'occhiello per la ballata teatina. Sì infatti proprio questo è l'aspetto che io ti conosco nelle vesti del calcio a 5 è la prima volta che ho il piacere di vedervi all'opera anche sul calcio a 11 è una buona una buona realtà è un merito a te presidente che fai tutte queste cose per il per il paese ma non non soltanto tu ma anche i tuoi collaboratori sì sicuramente tante volte sono io che metto la faccia ma siamo un team di tante persone che danno il meglio per far sì che questa società diventi sempre più grande quindi li voglio ringraziare tutti perché senza di loro non avrebbe modo di esistere e come dicevo precedentemente gli obiettivi sono sono ambiziosi quindi quest'anno proveremo a puntare per il salto di categoria se non dovessimo riuscire comunque ce ne faremo una ragione perché comunque è il primo anno ogni rinizio ogni realtà che riparte come come puoi vedere anche nelle altre realtà calcistiche che ci sono in giro per il resto di Abruzzo ci sono difficoltà noi stiamo provando a superare queste difficoltà ce la stiamo mettendo tutta mi fa piacere che ogni domenica non solo il sabato ma anche la domenica ci sia un campo che si riempie di gente quindi questo è uno dei primi obiettivi che già abbiamo centrato perché per il paese avere tutto il weekend impegnato con dello sport far sì che delle persone vengono si muovono da territori e provengono a ripetitina è già un successo enorme poi per quanto riguarda la parte sportiva ripeto ci proveremo fino alla fine a dare il massimo centrare l'obiettivo